Hai ricevuto problemi riguardo all'avvio su Rainbow Six Siege che non funziona, quindi non si avvia, quindi ha dei seri problemi, soprattutto anche nella sua cartella che ha dei file difettosi e quindi il gioco non si può avviare. Quindi in questo caso possiamo direttamente andare su Ubisoft, entrare direttamente nella sua cartella, quindi vai sulla rotella qua, vai su proprietà, installazione, apri cartella. Una volta entrati nella sua cartella, tasto destro sopra, mostrate opzioni, proprietà, compatibilità, eseguiamo questo programma come amministratore, modifiche e impostazioni di DPI elevati. Metti DPI programma, esegui l'override del comportamento di ridimensionamento di DPI elevati, sistema avanzato e fai applica. firme digitali, visualizza certificato, installa certificato, utente corrente, facciamo avanti, facciamo avanti e facciamo fine. Una volta fatto, chiudiamo un attimo Ubisoft, vai a scrivere esegui, scendi fino a giù, fino a trovare così la cartella Ubisoft oppure Rainbow Six o style roaming oppure in local. scendi fino a giù, scendi fino a trovare Ubisoft ed eccolo qua. Rimuovendo questa cartella e rimuovendo anche altre cartelle, dobbiamo rifare l'accesso a Ubisoft. Ora entriamo così nella cartella Ubisoft, sempre in local. Questo è Rainbow Six, cancelli così la cartella e cancelli anche la cartella Rainbow Six Siege. Ora apriamo Ubisoft come amministratore. Come amministratore. rifacciamo l'accesso al nostro account. Ora, se non dovesse funzionare, puoi direttamente reinstallare l'applicazione Ubisoft Connect oppure reinstallare di nuovo Rainbow Six e poi una volta fatto, fai la verifica al gioco. E ora non mi resta che avviare Rainbow. Ovviamente prima di avviare Rainbow sul desktop, apri Ubisoft come amministratore e apri Rainbow direttamente su Ubisoft e non sul desktop. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ecco che il Rainbow si è avviato senza nessun problema. Ovviamente per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Ci sono altre guide riguardo sul Rainbow anche per i problemi al matchmaking e problemi di connessione. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. 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 Grazie a tutti